da sempre le leggende hanno preso spunto dalla natura una saggia maestra che può indicarci la strada verso un nuovo rispetto che finalmente l'uomo sembra aver riscoperto la leggenda racconta di sette sorelle tutte bellissime e molto simili un giorno un principe passò in questa terra e rimase stupito ammaliato da tanta bellezza decise di sposarne una ma doveva essere la più bella era difficile fare la scelta e ogni volta che decideva quale dovesse essere la sua sposa la sera iniziava a fare dei festeggiamenti a bere e la mattina risveglio non la riusciva più a riconoscere in questo modo passarono tanti anni e le sette ragazze rimasero per tanto tempo nubili in attesa che il principe scegliesse una di loro alla fine il principe non si sposò mai ma le sette sorelle piansero tutte le lacrime del mondo che oggi sono ancora rappresentate con queste splendide cascate che in realtà a volte sembrano sette a volte sembrano un po meno a seconda del flusso d'acqua che cade dalla parte più alta della montagna ma la leggenda continua perché per punizione il pretendente il principe è stato costretto per l'eternità ad osservarle trasformato in una cascata una cascata a forma di bottiglia che doveva ricordare quell'alcol che gli aveva alla fine rovinato la vita